Gli explo di Berrettini e Sinner che hanno riportato dopo decenni il tennis italiano ai vertici delle classifiche mondiali sta dando i suoi effetti positivi all'interno dei circoli e sul movimento giovanile. Una bellissima e soprattutto sana giornata di sport ha contraddistinto ieri mattina il centro polisportivo a Marina di Città Sant'Angelo che ha ospitato la fase provinciale teramana dei campionati nazionali FIT Junior Program categoria Green 10-12 anni. A curare l'evento il circolo tennis Silvi a cui hanno partecipato il circolo tennis Teramo, quello di Martinsicuro, quello di Montorio e due squadre proprio del circolo tennis Silvi. Dall'avviamento al perfezionamento il FIT Junior Program è un nuovo sistema nazionale di valutazione didattica e di certificazione della qualità dell'apprendimento. Sono definiti 5 livelli sulla base oltre all'età di palle, racchette e spazi utilizzati. Il campionato promo parte con la categoria Red 6-7 anni, poi Orange, Super Orange, Green e Super Green 14-15 anni. Quindi è un modo per incanalare i ragazzi nelle attività della Federazione Italiana Tennis che prevede, come dicevamo, un primo step che è quello del FIT Junior Program che si divide sia nei campionati sia nei tornei individuali che si giocano in tutta la provincia dalla settimana prossima. Dopodiché da questo primo step l'obiettivo è quello di farli passare poi nell'attività agonistica della Federazione Italiana Tennis. Le difficoltà, confessano i maestri, ci sono, dato che spesso e volentieri i bambini scelgono di praticare uno sport influenzati dagli amichetti e in questo apprendere il sopravvento poi sono gli sport di squadra. All'inizio non è facile, però le soddisfazioni ce le togliamo noi, ce le tolgono loro e i genitori ci ringraziano perché si ritrovano per le mani poi dei bambini che hanno più autostima. Contento il presidente del circolo tennis Silvi Silvestro Di Berardino. Dopo due anni di pandemia e con le attività andate avanti a singhiozzo, dice finalmente torniamo a vedere sorridere i bambini e i loro genitori e poi nel futuro, chissà. Come ho già detto, toglierli dalle computer e dalle attività, quindi farli stare all'aria aperta e fare attività sana. In più non ci dispiace, adesso abbiamo un volano molto importante, berrettini, sinner, abbiamo un tennis che funziona. e quindi francamente avere anche qualche bambino che si appassioni di più poi sarà, come dire, al divenire le possibilità o il futuro di questi bambini. Noi intanto li mettiamo nella condizione di poter operare al meglio.